Si è svolta la presentazione del programma 2015 delle attività della Pickup Records Vinili da Collezione. Un 2014 che si sta chiudendo ma che ha ancora un evento importante da proporre, la fiera del disco CD e DVD il 28 dicembre e un fitto calendario di appuntamenti per il 2015. Alberto Carrette e Franco Calzoni illustrano ai nostri microfoni l'evento di fine dicembre e i venturi. La sera accade che stiamo a presentare le nuove date della Remember Vintage e della fiera del disco per l'anno 2015. Facciamo un'esame più eminente, è la fiera del disco che anche quest'anno cambia location, dalla Castelmela si trasferisce in un'altra zona molto prestigione, fa la tenda di Brescia con quello che le consegue a livello proprio di organizzazione. Palavanco adesso, si chiama Palavanco, però è spalatenda. Esatto, si svolgerà il 28 di dicembre, l'ingresso sarà dalle 10 alle 19, una giornata appunto, ripeto, del 28 di dicembre. Siamo addirittura con i eventi Vintage, partiamo dal 7-8 febbraio, desensale, presso il centro commerciale di Vede, il Remember Vintage in galleria, e questa è la più invitata. Al topo di quello, ritorna, presso la prestigiosa sede di Villa Penaroli, e ritorna il 7-8 marzo, il Remember Vintage Brescia. Allora, per quanto riguarda gli eventi del Vintage, il sito è www.eventivintage.it. Mentre per quanto riguarda i dischi Fumetto, il sito è www.tkrecords.it.